Quanto è importante il purpose per condurre un business? Nella puntata precedente abbiamo parlato di cultura aziendale, uno dei quattro pilastri del business consapevole, argomento al centro di questa miniserie di Innovators Talks realizzata in collaborazione con Fondazione Conscious Business. Oggi incontriamo Elena Midolo, CEO di Clio Makeup, per parlare di un altro pilastro, il purpose, e per capire insieme come possa essere interpretato questo concetto e integrato in una realtà aziendale innovativa. Scopriremo come allineare la mission di un'azienda con un purpose chiaro permetta di migliorare la propria performance, di creare ambienti e condizioni lavorative favorevoli e di ispirare la propria community. Io sono Josip Kotlar, Associate Dean di Polimi Graduate School of Management e ho il piacere di presentarvi Elena. Benvenuta Elena e grazie di essere qui con noi. Buongiorno Josip, grazie a te, grazie al Politecnico per questo graditissimo invito. Elena, il purpose per Clio Makeup è un tema forte e lo è stato fin dalle sue origini. Ci racconti un po' come si lega all'inizio del vostro percorso e quali altri elementi poi hanno portato alla trasformazione dell'idea di una creator in un vero e proprio business. Per noi il purpose è la cornice di senso all'interno della quale abbiamo sviluppato sin dal giorno 1 la nostra idea. È un'intima convinzione che fa un po' rima anche con invenzione e nella storia di Clio Makeup l'invenzione ha un ruolo centrale nel senso che il lavoro di editore che Clio ha introdotto attraverso una nascente tecnologia, piattaforma, quella di YouTube, fondamentalmente si va a legare ad un ambito poco esplorato o anzi direi totalmente inesplorato che era sostanzialmente la realizzazione di video tutorial di trucco. Sembra una cosa molto semplice Josip e di fatto lo è io dico sempre non è che Clio Makeup ha inventato l'acqua calda ma di fatto ha introdotto all'interno di una piattaforma come quella di YouTube al tempo dove io dico sempre c'erano soltanto cani sullo skateboard quindi fondamentalmente contenuti con poca rilevanza editoriale ha introdotto una linea editorale dotata di senso poi alla fine si parlava di prodotto cosmetico ma di fatto la grande invenzione è stata quello di portare contenuto rilevante per l'utenza per un'utenza interessata. Molto interessante e allora dopo 15 anni di esperienza però il purpose continua ad essere un tema forte per voi allora volevo chiederti come continuate a lavorare nel tempo su questo tema e poi se ci siano stati dei punti di svolta diciamo nella vostra evoluzione? Ci siamo resi conto che fondamentalmente da questa buona idea che prima di tutto nasce nell'ambito dell'editoria digitale da questa buona idea si avevano delle reazioni da parte della community che erano coesione armonia non soltanto interesse ma soprattutto gioia e dimostrazione di grande curiosità rispetto alla tematica che Clio fin dall'inizio affrontava cioè il make up e quindi abbiamo pensato come evolvere cosa portare di nuovo negli anni come garantire parallelamente alla nostra idea di business longevità abbiamo quindi pensato al prodotto e quindi Clio make up da editore pure digital si trasforma si evolve affronta questa metamorfosi anche complessa e diventa prima una startup e poi una consolidata realtà aziendare la prima direct to consumer in italia tutta dedicata al beauty ma è una storia devo dire molto affascinante Elena e racconta molto anche di quanto il purpose possa guidare il salto se vogliamo verso settori verso attività anche diverse da quelle inizialmente immaginate allora il purpose sicuramente dalle tue parole emerge è un elemento di fondazione appunto per un business consapevole ma poi mi chiedo nella pratica come si coniuga poi con l'idea con il metodo di un'impresa allora il punto di partenza per noi osip è sempre stato il seguente il profitto è penultimo clio che è il talent il volto di clio make up ma anche la professionista garante con le sue competenze in abito cosmetico del prodotto del contenuto che noi distribuiamo fondamentalmente ha incominciato la sua avventura prima appunto sui social né digitale parliamo in generale non perché desiderava diventare famosa non perché voleva diventare un influencer anche perché quando l'ha iniziato non esisteva il concetto di influencer lei in questo senso è proprio una pioniera una trailblazer proprio del settore anzi io dico che clio make up e questo fondamentalmente ormai rimane ha un po' inventato l'influencer marketing di cui tanto oggi si parla e sul quale sono stati scritti manuali nell'ambito del beauty noi abbiamo iniziato nel 2009 gli osip con le prime collaborazioni con i primi brand prima sulla piattaforma youtube dopo su instagram ovviamente facebook e così via la sottoscritta viene dall'università oggi ricopro il ruolo di ceo ho costruito dall'interno un'azienda partendo da un'idea e dando struttura e anche per me per mia forma mentis per mia formazione il valore ultimo non può essere quello economico quindi tutto quello che noi abbiamo fatto aveva sicuramente un occhio di riguardo per qualcosa che abilita un'azienda non può non è ragionevole non è credibile parlare o pensare a una realtà totalmente destrutturata e senza un interesse di natura commerciale ma il nostro obiettivo è sempre stato dal giorno 1 portare all'utenza alla community a quelli che oggi sono diventati clienti un qualcosa di qualità che sia contenuto o che sia prodotto tanto che io dico sempre in clio make up nella nostra azienda che ora produce cosmeticci e skin care il prodotto è un'emanazione del contenuto è una forma di contenuto in cui noi raccontiamo storie e cerchiamo fondamentalmente un colloquio costante un dialogo per quanto ovviamente ideale con la nostra utenza che fortunatamente è diventata anche la nostra clientela molto molto interessante poi tra l'altro siete riusciti proprio negli anni a creare una community vera e propria peraltro una community che parla direttamente ai giovani allora ed è un tema per tante aziende molto saliente allora vorrevo chiederti in chiusura anche quali consigli vorresti condividere con giovani o meno giovani che vogliano seguire una passione simile o la propria passione e che stiano cercando il proprio purpose sulla base della tua esperienza quale sarebbe il consiglio che lasceresti sicuramente l'eclettismo è un approccio più umanistico e io credo che l'eclettismo sia un po' il risultato di un umanesimo mi piace parlare di umanesimo proprio in un periodo in cui si parla tanto e immagino iosip tu ovviamente nel vostro autineo sarà una degli argomenti come del resto in tutti gli altri centrali l'intelligenza artificiale io credo che proprio oggi proprio con questa tecnologia rivoluzionaria che porterà una svolta epocale l'eclettismo umano sia fondamentale uno perché appunto alimenta la passione non soltanto ti permette di individuarla ma l'alimenta ma anche perché ci nutre nutre la mente umana che poi di fatto un po' deve essere sempre il motore di questo purpose innanzitutto è quello che la che forse soltanto la mente umana può identificare un purpose la macchina credo che difficilmente lo possa fare in maniera intima e consapevole questo è un punto secondo me molto interessante e poi di fatto poiché appunto questa l'apertura della nostra mente ci può portare di fatto a pensare a modalità diverse di fare le cose una cosa che per esempio mi piacerebbe lasciare a chi ci ascolta a me molto spesso nel mio ruolo mi hanno detto questa cosa non si può fare non si è mai fatta siete amati a pensarla e io molto spesso pensato ottimo bella notizia perché probabilmente se noi siamo abbastanza svegli e smart riusciamo a trovare un modo per risolvere questo specifico problema e ti assicuro che la nostra vicenda è costellata ad aneddoti non abbiamo il tempo ma te li racconterei molto volentieri dove fondamentalmente ci hanno detto non si può fare ma noi con le nostre risorse anche grazie a questo eclettismo di cui ti parlavo siamo riusciti a portare a casa dei bei risultati ma è proprio questo credo lo spirito anche la anche la forza che da un avere un purpose davvero chiaro grazie elena grazie per essere stata nostra ospite per tutti i contributi che hai condiviso grazie a te iosip grazie vuoi scoprire altri episodi sul tema del business consapevole del purpose e altre miniserie sui temi di innovazione impatto continua ad ascoltarci sulle migliori piattaforme di podcast o visita il nostro sito nella sezione dedicata a innovators talks grazie di averci seguiti un saluto da jossi kotlar e da polimi graduate school of management innovators talks dove si vive l'innovazione